Pronti ad emozionarci? Lo facciamo con Paolo Ciabatti, l'anima della Superbike, una Superbike che sta prendendo sempre più piede. Sì, è un campionato che riscuote sempre un grande successo e soprattutto nelle tappe italiane abbiamo sempre le tribune piene, il paddock pieno di tifosi. Per noi è importante lasciare la possibilità agli appassionati di entrare all'interno del paddock per vedere da vicino i loro bieni e mini, per poter anche toccare con mano quasi le motociclette che tanto li fanno appassionare durante le gare e quindi anche oggi il sole ci aiuta, una bella giornata a tantissima gente. Continuando a parlare di emozioni parliamo di un matrimonio, di un sodalizio per la prima volta anche con EICMA. Sì, in effetti non potevamo mancare, in effetti quest'anno saremo l'EICMA con la nostra struttura del paddock show, con le nostre moto e con i nostri piloti, quindi proprio un campionato che è così legato perché derivano le nostre moto dalle moto di serie non poteva mancare ad EICMA e quindi diamo l'appuntamento per la prima volta a tutti gli appassionati, finite la stagione veniteci a vedere all'EICMA e vi porteremo tante sorprese.